Sabato 18 settembre scatta la Lunga Notte dei Musei. Vediamo servizio. E chi lo dice che di notte girano solo le civette? È il motto della quinta edizione della Lunga Notte dei Musei Altoatesini, che si terrà sabato 18 settembre. I dettagli sono stati presentati in conferenza dall'assessore provinciale alla cultura tedesca Sabina Kaslatermur e i responsabili del progetto. 35 musei e le collezioni in tutto l'Alto Adige, dalla Val Venosta alla Val Pusteria, da Vipiteno a Daldino, che aderiranno all'iniziativa notturna. L'apertura avverrà tra le 17 e le 18, un'occasione unica per ammirare le ricchezze del nostro patrimonio museale in un'atmosfera incantata. Abbiamo notato soprattutto negli ultimi anni che proprio al di fuori dei orari, soprattutto la nostra gente, ha voglia di fare ancora un programma culturale. I musei devono veramente aprirsi e fare ogni tanto queste iniziative, aprendo le porte al nostro pubblico. Un bus navetta metterà in collegamento per la prima volta nella storia della manifestazione i musei della Conca Meranese. Tutte le informazioni utili, l'elenco dei musei partecipanti ed il programma dettagliato si possono trovare in internet all'indirizzo www.provincia.bz.it slash lunga-notte-musei. Da sottolineare invece che i musei di Bolzano celebreranno la loro lunga notte il 26 novembre prossimo.